Tornano anche per questo fine settimana i controlli in mare che vedono in maniera congiunta e sinergica operare la Capitaneria di Porto, la Questura di Salerno e le altre forze di polizia per contrastare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti non solo alla guida delle auto ma anche alla guida di imbarcazioni. Il pericolo è lo stesso, c'è ancora grosso rammarico per le due tragedie che si sono consumate l'estate scorsa e che hanno macchiato di sangue il mare che bagna la costa salernitana. Il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria D'Aconto, ha voluto per questo fortemente invertire la tendenza prima di lasciare la guida della Guardia Costiera Salernitana dove da due anni è al comando. La Capitaneria di Porto di Salerno è probabilmente la prima in Italia ad aver attivato questo tipo di controlli in mare. Anche nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro che è propria della Guardia Costiera in collaborazione con le forze di polizia, quest'anno su iniziativa della Questura di Salerno stiamo verificando anche il tenore di alcol e eventualmente l'assunzione di droga da parte dei conducenti. Questo anche alla luce purtroppo di eventi che si sono verificati nella scorsa stagione estiva. E come funziona il controllo? Il controllo si fa prima un controllo a mare sul soggetto che conduce il natante, l'imbarcazione e poi in caso di esito positivo vengono ricondotti a terra e ricontrollati a terra da parte della polizia stradale. Comandante, chi risulta positivo a questo tipo di testo cosa rischia? Le sanzioni vengono gradate in funzione del tasso alcolico o del tasso di assunzione di sostanze stupefacenti. Chiaramente si può arrivare fino alla sospensione o addirittura alla revoca della patente nautica. Sono controlli che riguarderanno in modo particolare la Costiera Amalfitana? Sono controlli che riguarderanno il territorio. Questo tipo di intervento è solo una delle tante operazioni che state facendo come Capitaneria nell'ambito del programma Mare Sicuro? Certo, sì, perché come dicevo prima anche quest'anno il Comando Generale ha disposto un'operazione ad ampio raggio che è appunto quella di Mare Sicuro. Quest'anno anche laghi sicuri perché sono stati potenziati i nostri comandi sui laghi maggiori. E questo perché chiaramente l'ordinamento attribuisce alla Guardia Costiera e ai Capitaneria di Porto il controllo su tutte le attività che si svolgono in mare sia di balneazione che di Porto. Fino a questo momento siamo ormai a quasi metà luglio e soddisfatto? C'è già un bilancio dei primi risultati? Diciamo che per il momento ci sono stati parecchi controlli che hanno condotto anche ad elevare una serie di sanzioni. Devo dire che ora non so se per il tempo che non è stato sempre clementissimo, comunque rispetto alla scorsa stagione abbiamo avuto una riduzione delle sanzioni combinate. Spero per un maggior senso di responsabilità di tutti coloro che a vario titolo vanno in mare. Grazie a tutti.